Tra i farmaci innovativi per il trattamento della leucemia mieloide acuta ci sono gli inibitori di IDH1 e IDH2 che colpiscono la forma mutata degli enzimi codificati da questi geni. Ma come agiscono? Quando si usano? Che risultati danno? E quale sarà il loro ulteriore sviluppo? L'abbiamo chiesto a un'esperta, la professoressa Maria Paola Martelli, che ha tenuto un'interessante relazione su questo argomento in occasione del terzo convegno annuale di Soho Italy, la Società di Ematologia Oncologica Italiana, nata dalla collaborazione fra l'Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori di Meldola e il prestigioso MD Anderson Cancer Center di Houston. Professoressa, innanzitutto, quanto sono frequenti queste mutazioni dei geni IDH1 e IDH2 nei pazienti con leucemia mieloide acuta e che non lo hanno nella malattia? Le mutazioni di IDH1 e IDH2 nel complesso si riscontrano in circa il 20% di tutte le leucemie mieloide acute e aumentano con l'età raggiungendo percentuali di circa il 30% nei pazienti di età superiore ai 65 anni. Queste mutazioni hanno un ruolo intervento nell'alterare la differenziazione cellulare, bloccandone quindi la differenziazione cellulare tipica della cellula leucemica e quindi contribuiscono in maniera importante allo sviluppo della leucemia. Tra i nuovi farmaci per la leucemia mieloide acuta ci sono appunto gli inibitori di IDH1 e IDH2. Ci spiega esattamente come funzionano questi farmaci? Che meccanismo d'azione hanno? Questi farmaci sono proprio degli inibitori specifici, vale a dire si vanno a legare nel sito attivo della proteina prodotta dal gene mutato, quindi di questo enzima, bloccandone l'attività e quindi bloccano di conseguenza gli effetti che queste mutazioni hanno all'interno della cellula. Quali sono gli inibitori di IDH1 e IDH2 attualmente approvati? Con quali indicazioni e che risultati permettono di ottenere? Dunque, gli inibitori di IDH1 e degli IDH2 che al momento sono stati approvati però soltanto negli Stati Uniti dalla Food and Drug Administration sono i Vosirinib per quanto riguarda IDH1 e nasigeni per quanto riguarda IDH2. Dico solo FDA approvati in quanto in Europa l'EMA non ha approvato l'impiego di questi inibitori e ancora non convinta dei risultati che sono stati pubblicati, per cui in Italia non abbiamo l'uso autorizzato di questi composti. Ma in quale fase della malattia si possono usare? Negli Stati Uniti sono approvati per l'impiego nella fase di malattia in recidiva o refrattare a precedenti trattamenti in pazienti che non sono elegibili alla chemioterapia o comunque di età superiore ai 75 anni. Professoressa, quali sono le questioni ancora aperte relativamente all'utilizzo di questi farmaci? In Europa l'autorizzazione, quindi rimane un capitolo sicuramente aperto e aspetteremo ulteriori studi per poter poi ottenere l'autorizzazione di impiego, vuoi da soli, vuoi in combinazione con altri farmaci. Negli Stati Uniti già sono in uso, in combinazione sia con altri farmaci non chemioterapici e oppure anche chemioterapia intensiva. Guardando quindi al futuro, quali sono secondo lei le ulteriori prospettive di sviluppo di questi farmaci? Lo sviluppo di questi farmaci sarà quello del loro impiego in regimi appunto di combinazioni con chemioterapia o anche in regimi sequenziali sempre alternati a chemioterapia o terapie con agenti ipometilanti, vale a dire non chemioterapici classici, oppure anche come terapia di mantenimento dopo trapianto o dopo altre terapie intensive.